Allora io questa settimana l'ho fatto uscire ancora un video perché perché sono con loro sto facendo un casino allora stavamo pensando se chiude il ciringhitto quest'inverno dove andiamo proposte dove potremmo organizzarci ok iscrivetevi allora questo euro è per aver fatto iscrivere della gente devo pagare il ducati e li raccoglierò i pezzi in giro ripreserò le brugole non sanno quello che stanno dicendo poi facciamo il buono sconto delle ruo merlè da notare il cappellino già rossa difendi dove la telecamera all'amicizia questo luogo indefinito di milano è tutto ci vediamo più tardi andiamo alla biliarderia di porta a geno poi ci care sul suo bicchiere sembra quando c'è di faretti del g s e tu senti da quella c'è sirene spente lampeggianti accesi io avevo gli spieghi e poi dice che io bevo la guida ho preso l'acqua naturale attivate la camporello vai lascia il bigliettino del visito del tazzica c'era un tassista e un tabaccaio a domani vi voglio al bar zurigo a fare brioche domani alle 5 e mezzo al bar zurigo a lavorare però chi è che accetta la sfida io faccio i caffè io faccio i gin tonic io non garantisco io in questo video qua devo mettere tanti beef no e soprattutto fra devi oscurare le facce ai capito te vai porta dentro al fondo che adesso c'è bad spencer e terenzio che fanno una botte qua Il corpo del reato Non c'entra nulla Non c'entra niente Tu porti le palle tu che c'hai il p***o sulla maglie Figa anche la giacca Allora sfida della giornata Domani mattina alle 5 e mezzo Al suo bar Fra No sei Roby tu 5 e mezzo al bar di Fra E' la sfida? Si Allora ci sono Ma è urina questa E' da un'urina che aspetto Allora andata? Fatto di sangue? Qua le mani? 5 e mezzo Vedremo domani mattina chi ci sarà Solo lui Ti puoi fare un video da solo nel caso? Buonanotte a domani Io sarò a montare i podcast per un inclinato Si alle 5 ma che cazzo di Va figo Alle 5 e dormite Va bene vediamo domani mattina Sì O che cazzo di sangue? No O che cazzo di sangue? Mi sono Mi sono No O che cazzo di sangue? O che cazzo di sangue? C'è l'ho fatta ragazzi C'è già gente Ah salve Il caffè l'abbiamo bevuto Il suo macchiato l'ho bevuto Ma ora ce ne andiamo a dormire Tu resti Guardate qua il JXR C'è già gente in coda Al semaforo Questa è Milano Ma non va la cassa C'è tu oggi sei venuto Hai creato un bug Che non funziona la cassa Stai arrivando disponibile E basta Il mio dovere l'ho fatto anche oggi Ma ne posso tornare a casa Non rimane a lavorare Si va a dormire ragazzi Da questo video è tutto Sono le 6 e 38 Vado a dormire Vado a riposare ancora un'oretta Prima di mettermi a lavorare Direi che ci vediamo presto Per un video Bomba a ottobre Vedetevi di qua Su questo pulsantino Oppure di qua Non so se questo verrà riflesso E lasciatemi un commento Su ipotetiche altre sfide Che potrei fare In JXR Alle 5 del mattino A me è tutto E da vicino Ciao